Finestre blindate classe 6. Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Oggi ti voglio parlare di questa fantomatica finestra classe 6. Praticamente è vero che le classi antifrazione vanno dalla 0 alla 6, però la 6 è una classe antifrazione che nelle finestre trovi praticamente nulla in commercio. E sta uscendo qualcosa a livello di inferiata. C'è qualche così la classe 5, ma classe 6, ma anche classe 5 per una casa, non è un divo di Hollywood, è qualcosa che non ti serve. Vorrebbe dire fare anche dei muri, magari con 10 cm di ciaio dentro, perché poi fare il buco del muro è molto facile, soprattutto nella casa che si fa adesso col cappotto, dove basta tagliarlo con il cutter e viene via. Dentro c'è un mattone isolante che è tutto forato, tempo un minuto, massimo due minuti, sei dentro una casa. Quindi figuriamoci se uno si prende la briga di sfondare un'ipotetica finestra della classe 6, che comunque avrebbe dei costi, cioè veramente spropositati, perché tutto è fattibile. Magari è difficile da realizzare con delle termiche che servono adesso, perché servirebbe molto molto acciaio per fare un classe 6. Ti ricordo che nella classe 6 la prova prevede una mola da taglio, col disco quello grande da 250 mm, e il flessibile che ha la mola da taglio, taglia qualsiasi cosa, solamente una questione di tempo. Quindi diciamo che è una cosa che non esiste, che sconsiglio. In quei casi dove serve questa sicurezza estrema, ci sono altre soluzioni, come guardie del corpo, come sistemi esterni che uno che mastica molto di sicurezza ti può consigliare e personalizzare a seconda della tua esigenza. In un'abitazione normale, anche una bella abitazione, si può spiazzare dalla 2, che è già la bella classe, fino diciamo a un massimo, una 4, che magari si può ottenere in combinazione con l'elemento esterno, che può essere una tapparella, una persiana, una grata, e l'infinso interno. Se vuoi sapere dei consigli, se vuoi conoscere dei consigli sulla casa che sta realizzando, sta ristrutturando e non trovi un professionista che ti aiuti in questo, perché è difficile trovare dei consulenti e spesso quando chiedi preventivo il tuo consulente è quello che ti sta vendendo le finestre, quindi c'è un evidente conflitto di interessi, ti puoi valere del servizio che ho ideato con il sistema Bisacchi, questa consulenza, se vuoi saperne di più in merito puoi andare su www.blogbisacchi.it e per notare la tua consulenza personalizzata dove ti aiuterò a scegliere la soluzione migliore e magari anche analizzare i preventivi che ti sei già fatto fare e se vuoi saperne di più appunto vai sul sito e richiedi la tua consulenza. Ciao e al prossimo video!